Chi non ha l'abitudine di scriversi la lista della spesa sa bene cosa succede. Quante volte andiamo al supermercato e lasciamo scivolare nel carrello articoli in più? Ecco, per una volta facciamolo con o senza lista della spesa, non sopra pensiero, ma anzi pensando che quel qualcosa che rappresenta un di più per noi verrà invece moltissimo per chi lo riceverà. L'appuntamento è per l'intera giornata di sabato 18 novembre con la giornata nazionale della colletta alimentare. 94 gli esercizi commerciali di Valtellina e Valchiavenna che aderiscono all'iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Rappresenta un sostegno fondamentale per tante famiglie, purtroppo sempre più numerose. Un piccolo gesto con una piccola spesa si può fare davvero tanto. Durante la giornata si potranno acquistare alimenti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l'infanzia da donare alle persone in difficoltà. Gli alimenti raccolti in provincia di Sondrio saranno destinati per la maggior parte a 14 associazioni locali di volontariato e di solidarietà sociale, tra cui Caritas, Banco di Solidarietà di Sondrio, Opera Don Guanella, Il Gabbiano e Croce Rossa Italiana. Ogni mese diamo a tante famiglie, ormai abbiamo passato di un bel po' il numero 200, il pacco viveri. E' logico che più persone danno una mano, ci aiutano, anche il pacco diventa più sostanzioso. Purtroppo anche da noi, come a livello nazionale, c'è un aumento dei casi. Seguiamo varie famiglie, seguiamo anziani soli, magari con la pensione minima e fanno sempre più fatica ad arrivare alla fine del mese.